vedo spocchiosi vai chiuso e qui si confeziona per malattia prima dell'appedizione tutto l'acqua li controlliamo e li mettiamo qui nelle cassette freschissimo guarda qui ci ha arrivato e qui e poi da lì nelle cassette stanno raccogliendo le arance e tu che stai facendo qua? stai preparato per assistere i ragazzi e gli dobbiamo dare un bel pranzo se non si mangia non si lavora che sta fatta lì? ma quella lì è una per occhio i ragazzi a stomico pieno lavorano di più questo è questo questo è questo questo è questo le mettiamo qua e poi iniziamo a chiuderle e a imbacchettarle e i vetri a che fai? e non faccio tanto le cassette di preparaccio sono state raccolte quando sono state raccolte? sono state raccolte? e non faccio tanto le cassette e non faccio tanto le cassette